In un lungo comunicato firmato da Gianfranco Scarciotta, Marianna Gutilla, Maurizio Lombardo, Cataldo Faccianella, Franco Gutilla e Salvatore Citrano per Primavera San Cataldese viene spiegata la loro scelta di lasciare il Partito Democratico. Ci abbiamo ragionato, ci abbiamo riflettuto e abbiamo deciso e così infatti che inizia il documento in cui vengono elencate le ragioni che le hanno portati a tale decisione. Quanto mai sofferta e rinviata nel tempo così come loro stessi raccontano. Hanno atteso fino alle elezioni dello scorso 25 settembre, fanno riferimento alla situazione nazionale. Non ne condividiamo l'attuale collocazione nel panorama politico del Paese, precisano infatti, ma soprattutto a distanza di quasi un anno parlano di una questione locale. Anche all'interno del circolo PD San Cataldese si è giunti, a partire dall'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ad una frattura insanabile, esclamano. Ritenevamo e continuiamo a ritenere che l'elezione di Bonsignora Presidente del Consiglio, peraltro e per inciso consigliere eletto da indipendente tra le fila del PD. Rispondesse all'esigenza di non compromettere gli equilibri di rappresentanza nell'istituzione comunale, sottolineano, raggiunti tra le forze dell'originaria coalizione e a quelli successivamente intervenuti a seguito dell'apparentamento, raggiunto senza altro a pretendere con altra forza civica. E non di secondario rilievo, rispondesse ancora all'opportunità di offrire dignità politica, aggiungono, all'unica componente della compagine di maggioranza, seppure minoritaria ma storicamente rappresentativa della sinistra sancataldese, altrimenti priva di qualsivoglia rappresentanza istituzionale. E ancora parlano di divergenza di visioni fino ad arrivare alla decisione finale. Continueremo pertanto ad offrire il nostro leale di incondizionato sostegno al nostro sindaco e alla sua amministrazione, concludono attraverso lo sperimentato e autorevole contributo del gruppo consigliare centrosinistra sancataldese, al quale da oggi fa riferimento la vice sindaco Marianna Guttilla. Grazie a tutti.